Ciao Asia Ciao Cosa stai facendo? Sto facendo Due Tre No Non catturare Due Non catturare Non catturare Faccio Ok Uno Linda Ha 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 siiii ha fatto cadere dove andiamo? prendo catturata oh oh mamma in te la manete dai scegli quale? eeeh questo? oh oh ho sbagliato e questo? siiii dai adesso prendi ampaman ok prendo preso siiii ce l'hai fatta eeeh muoviti muoviti eiii chiediti dopo l'aria anche ampaman eeeh dove adesso Asia? quale c'hai? quale sono le manete? dove sono? fammi pensare qui di nuovo ho sbagliato e allora qui e vai oh vai stai 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 dai l'ultima pallina Ok, ancora una moneta Ok, ancora una moneta Ok, ancora una moneta Fammi vedere tutte le palline Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Ok, adesso in inglese One, two, three, four, five, six Good, and Chinese? One, two This is English One, two English Chinese? I I I Brava Vuoi aprirlo? Sì, voglio vedere Ok Prendilo Portalo qui Ci sono tanti giochi Questa c'è la foto di Purghigia Questo E questo Mi piace Ma chi c'è? Ma chi c'è? Ma chi c'è? Vabbè aprilo Voglio solo vedere Ti stai schiacciando? Vai Ok Guarda questo Questo è il sapone Oh, per fare la doccia Già Mi è già aperto? Oh, la spugna La spugna è un'altra Sì, ne abbiamo già quella piccola Questa è grande E cos'è questo? Sembra la siringa Per fare le punture No, è per spruzzare l'acqua Ah, è per spruzzare l'acqua Brava E questo? Ah, è per mettere l'acqua E... Toglio Toglio Ti aiuto? E questo Questo è un cappello E un casco Da bici? Un caschetto da bici, sì O da monopattino Ma in monopattino Non si mette i caschi? Eh, si possono mettere, sì, sì Quando c'è il campanino Con il bici, noi andiamo con il casco Ok Mi mettiamo i capelli Giù, giù, giù Giù, giù Giù, giù Già, giù Ok Anfamè! Eyy! Anfamè! Ti, ti do, mamma Ah, ti do, mamma Ti, ti do, mamma Ti, ti do, mamma I do? Ok 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 Hi! Ah, only two? Yes, because I already did five Mmm Ok, do It's in your leg Ooooooo That's pink Ah, I want a green Ok, ok Ok Yay, I did I already told you I'm good I'm good I'm good I'm good I'm good Really good Weeeeee Weeeeee We're doing my leg Ok Asiana, one more time You try Ok Why? You can do it You can do it You did it Muoviti Muoviti Adesso i colori? In italiano? Dai Da prima? Arancione Arancione Poi? Blu Poi? Verde Giallo Dov'è il giallo? No, no Stavo dicendo giallo Ah, verde Ah, verde e giallo Sì Rosso Marrone Rosso e marrone Poi rosa Sì Poi nero Ok E in inglese? Orange Ok Blu Ok Green Yellow Ok Brown Red Pink Black Ok E adesso in cinese? Non li sai in cinese? Non li sai in cinese? Non li sai in cinese? No li sai in cinese?